Pezza e me sono finalmente qui perché è veramente un vlog Allora, la prima domanda ce la fa Zata deficiente Quali sono i luoghi più interessanti che vorreste visitare? Da fanboy di Dragon Ball direi in Australia Ma anche dai Caraibi Quale trasformazione ti piacerebbe vedere in Dragon Ball e da parte di chi? Bella domanda, te direi il Super Saiyan 1 4 Te direi il Super Saiyan God explessibile Ragazzuoli Gesù è fortissimo No, non posso crederci Io sono fortissimo Mi sento impacchibile Grama true, complotto Vlog a chi ti ispiri su Youtube A sto cazzo Quando ti sposerai con Pietro? Ti sposerò il 20 agosto Quale luogo di Dragon Ball vorresti visitare? Ok, ti rispondo subito Da Cina, perché non so Sei mai stato bocciato? Fai zitto, minchione Fai zitto, minchione, minchione Ci tenevo a dire ragazzi che con questo video voglio offendere Ci tenevo a dire ragazzi Porco Dio! Non dovevate toccare Caulifla Non c'è un katak di minima merda Abbiamo la forma Sus Rosé Ma che merda Ricoloriamo anche le zinne Prima posizione ragazzi Guardatelo Guardate che faccia di cazzo Guardate che merda Guardate Chroma Man Sì, avete capito bene Dei leggendari Chroma Man Ma a me cosa cazzo serve Su un gioco di combattimento Un culo Di merda C'è C'è Sei 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 C'è piuttosto che giocare con quel personaggio Preferirei Diventare Una rana Con la figa Ciao Ciao Ciao